Mancanza di controlli, segnaletica insufficiente, incuria e alta velocità. Una situazione ormai diventata insostenibile, quella che ogni giorno si verifica nella centralissima via Dusmet. Arteria d'accesso principale della città di Catania e ponte tra l'area portuale e il centro storico è stata negli anni teatro di numerosi incidenti stradali e continua ancora oggi, nonostante le numerose denunce, a mettere a repentaglio la vita delle centinaia di cittadini catanesi e turisti che quotidianamente la percorrono. Ogni giorno non solo i turisti, ma i nostri concittadini in prima persona rischiano la vita. Più volte come Associazione Mobilità Sostenibile abbiamo stimolato le amministrazioni che si sono succedute a fare degli interventi. Poi mesi fa sono stati spesi milioni di euro per rifare i marciapiedi. Nessuno però ha pensato di allargare i marciapiedi. I marciapiedi in alcuni tratti hanno solo 30-40 centimetri. Una persona in carrozzella è impossibilitata a camminare su questi marciapiedi proprio perché non c'è una dimensione minima per poterla percorrere. Qui purtroppo, come potete vedere, in questo tratto di strada diversi abusivi occupano gli angoli dei marciapiedi e le strisce pedonale. Sono ostacolo proprio per i pedoni che sono costretti a passare in mezzo alla strada, rischiando ancora una volta di essere investiti. Questo è l'ingresso del porto, diventato punto di riferimento per tanti giovani. Purtroppo l'attraversamento forse è più pericoloso perché passano molte più persone rispetto agli altri. Qui ci vorrebbe un semaforo a chiamata pedonale per dare la possibilità al pedone di salvaguardare la propria incolumità. Come potete vedere, ecco una macchina che decide di tagliare la doppia linea continua, rischiando anche di impattare con le altre automobili. Chi attraversa poi è costretto a saltare le catene perché non c'è un vero e proprio passaggio pedonale. Purtroppo con questa segnaletica orizzontale non si riesce a salvaguardare i pedoni. Chiediamo vivamente di rialzare nuovamente le strisce pedonali, devono essere più alte, di installare degli autovelox fissi in quello spazio e sicuramente di mettere un semaforo per attraversamento a chiamata pedonale. A settembre ci sarà la settimana europea della mobilità sostenibile. Stiamo portando sul tavolo dell'assessore Arcidiagono almeno una decina di proposte, non da soli naturalmente, ma insieme ad altre associazioni che sono Lega Ambienti, Acquedotti, Centro Contemporanea, ci sono tante associazioni che stanno partecipando. Vogliamo vedere l'amministrazione cosa ha intenzione di fare, ci aspettiamo molto da questa amministrazione.